Ciao a tutti ragazzi, sono Epitriaper e quest'oggi volevo darvi alcuni consigli su come costruire la vostra casa ideale all'interno di Minecraft. Prima di iniziare ragazzi però volevo ricordarvi una cosa. Questi che vi darò all'interno del video saranno più che altro dei consigli e non degli ordini che dovrete seguire alla lettera. Infatti Minecraft è stato pensato dai creatori per essere un gioco all'interno del quale ogni giocatore può esprimere la propria creatività costruendo una casa. E questi consigli che vi darò più che altro saranno dei consigli che serviranno per costruirvi la vostra casa ideale. I consigli saranno visti da un punto di vista oggettivo con alcuni esempi che si basano più che altro sul mio stile costruttivo per farvi capire. Se avete altri stili costruttivi potete tranquillamente seguire i miei consigli o semplicemente ignorarli in quanto ogni giocatore è libero di fare ciò che vuole all'interno di Minecraft e io non sono nessuno per potervi negare di costruire quella che voi ritenete una casa migliore dei miei consigli che vi sto per dare all'interno di questo video. Detto questo direi che potrei tranquillamente cominciare a darvi i primi consigli. Il primo consiglio che voglio darvi ragazzi è quello di trovare il territorio adatto a voi. Infatti trovare un bioma sopra il quale non vi stancherete mai né di vivere né di costruire sarà un importante passo per la costruzione della vostra casa. Tra l'altro ragazzi dovrete pensare ai colori della vostra casa in maniera tale che questi contrastino e sfumino allo stesso tempo con il bioma circostante. La sfumatura permetterà alla casa che questa si integri con il resto del bioma mentre il contrasto farà in modo che questa si faccia notare rispetto a tutte le altre costruzioni o tutti gli altri elementi del bioma come struttura imponente e costruita da un uomo. Come potete vedere io più che altro mi baso sulla costruzione delle case all'interno delle pianure che sono il bioma che mi piace di più perché offrono nella maggior parte dei casi grande quantità di materiali e anche un territorio pianeggiante. Tra l'altro come potete vedere nella maggior parte dei casi utilizzo la legna che ha un buon contrasto è vero con il colore verde del terreno ma sfuma molto bene anche con il colore degli alberi. Altra cosa che volevo dirvi prima di iniziare con i consigli costruttivi e strutturali è quello che praticamente ragazzi ognuno di voi deve imporsi che sa costruire e non viceversa. Infatti ragazzi se ognuno di voi pensa che non sa costruire si ridurrà alla fine in un mondo dove effettivamente non sa costruire. Dovrete quindi partire con il presupposto che ognuno di voi è bravissimo a costruire e che ne avete le abilità necessarie. Questi consigli sono più che altro anche dati a quelli che di voi hanno bassa autostima e che sono convinti di non sapere costruire quando in realtà sono dei grandissimi costruttori che devono semplicemente trovare il momento adatto. Per quanto riguarda i consigli strutturali ragazzi il più importante che posso darvi è quello di partire ancora prima di cominciare a costruire la casa con già in mente una forma. Potete anche tranquillamente avere un progetto su carta come faccio io di solito all'interno di questo video mi son fatto un progetto a mente per il semplice fatto che ragazzi avendo semplicemente già un progetto in mente o su carta potete tranquillamente modificare con il passare del tempo la vostra casa durante la costruzione. Queste modifiche saranno poi apportate più che altro per dare una forma alla casa che si addica più che altro ai vostri gusti e alle vostre utilità. Tra l'altro vi consiglio vivamente di non improvvisare se poi volete potete farlo tranquillamente più che altro perché con l'improvvisazione nella maggior parte dei casi si arriva a un punto in cui ci si blocca e non si sa più cosa fare. Come potete vedere qua non avevo pensato a una parte laterale della casa in quanto a me le case piace costruirle che sporgano da tutti i lati e non che abbiano una forma unica e come potete vedere mi sono bloccato un attimino. Altro consiglio che posso darvi più che altro per quanto riguarda la struttura della casa è quello di trovare un blocco utile per lo scheletro. Come potete vedere io sto utilizzando il log di legno come blocco utile per lo scheletro questo più che altro perché il log di legno è facilmente reperibile nel bioma all'interno del quale sto costruendo e ha un buonissimo contrasto con il resto del bioma. Stessa cosa vi consiglio di farlo se state costruendo o nello stesso bioma o semplicemente in altri biomi. Una volta che avrete già in mente la vostra struttura e che sarà praticamente quasi completata vi consiglio di iniziare a costruire o le mura o il tetto. Ho deciso di iniziare con la costruzione del tetto in questo mondo semplicemente perché mi trovavo in creativa anche se di solito inizio più che altro con le mura quando mi trovo in sopravvivenza perché ritengo che siano molto molto più semplici da iniziare a piazzare. Volevo tra l'altro ragazzi darvi alcuni consigli per la costruzione del tetto e delle mura e che si basano più che altro su consigli che vi ho già dato. Ovvero trovare più materiali in quanto comunque un unico materiale per il tetto nella maggior parte non ci sta bene che allo stesso tempo sfumi e che ci stia molto molto bene più che altro in contrasto con il resto della casa. Come potrete vedere infatti ho deciso di utilizzare il legno diabete per i contorni del tetto e quindi la parte strutturale del tetto e stone bricks più che altro per la parte interna del tetto. In questo modo ho ottenuto un ottimo contrasto tra tutto il resto della casa contando anche che poi ho deciso di piazzare le mura al piano inferiore di cobblestone e quella al piano superiore di blocchi diabete in maniera tale che poi ci fosse un ottimo contrasto tra i vari tipi di tetto. Volevo dirvi più che altro anche di scegliere materiali adatti alla costruzione del tetto e delle mura in quanto scegliendo dei materiali che poi magari non si addicono bene o che sembrano quasi irrealistici visti da un punto di vista appunto realistico non ci sta molto bene. Vi consiglio quindi di trovare dei blocchi che in vita reale possano fungere o da reggimento o semplicemente da contorno alla vostra casa. Infatti magari piazzare dei blocchi di cobblestone come mura per il secondo piano non ci sta molto bene visto appunto il peso dei ciottoli in confronto a quelli della legna che metterete al piano inferiore della casa. Sempre parlando di tetti ragazzi se avete più punti della casa in cui volete costruire un tetto vi consiglio di unirli tutti in un unico punto in maniera tale che la casa abbia una forma unica e che ci stia molto bene con il resto dell'ambiente circostante. In maniera tale che si faccia riconoscere da ogni punto di vista in cui la guarderete. Tra l'altro appunto come state vedendo in questo preciso istante sto lavorando con i vari tipi di mura dove ho deciso praticamente di fare al piano superiore mura di abete che sfumano molto bene con la struttura della casa ma che allo stesso tempo contrastano con il tetto fatto di stone bricks. Per quanto riguarda invece il piano terra ho deciso di lavorare con la cobblestone che onestamente mi sembra un blocco molto più utile per dare senso di reggimento o semplicemente di struttura alla casa. Come potrete vedere poi tra l'altro qua ragazzi ho deciso di iniziare con il framing il framing ragazzi è una tecnica utilizzata da quasi tutti i costruttori più che altro per iniziare a dare alla casa un altro senso di reggimento e di decorazione allo stesso tempo. Nella maggior parte dei casi però ragazzi il framing riduce lo spazio interno alla casa quindi state molto molto attenti a come fate le grandezze della vostra casa quindi state molto attenti alle misure. Tra l'altro ragazzi il framing tradotto letteralmente dall'inglese significa cornice o contorno e come potete vedere serve più che altro per dare decorazione sia all'interno che all'esterno della vostra casa. Il framing è molto utile oltre che per dare una forma e una struttura alla casa sia dall'interno che all'esterno è molto utile anche più che altro per creare poi delle decorazioni in quanto con il framing all'interno della casa nella maggior parte dei casi si formeranno delle insenature nelle mura all'interno delle quali potrete mettere delle ceste, delle librerie o altre decorazioni a vostro piacimento. Cosa che onestamente ci sta molto bene. Nella maggior parte dei casi tra l'altro avere delle mura semplicemente piatte è vero può essere molto più utile per quanto riguarda questioni di spazio ma può anche essere molto triste e può rendere molto molto meno vivace la casa di quanto possa essere con l'utilizzo del framing. Quindi il mio consiglio più vivace è quello di utilizzare un blocco che abbia lo stesso colore o semplicemente la stessa texture o addirittura lo stesso blocco che avete utilizzato per tutta la struttura della casa e utilizzare quello per fare il framing all'interno. Tra l'altro fate in modo che tutti i blocchi che avete utilizzato con il framing si colleghino tra di loro in maniera tale che diano senso di struttura e di creazione diretta alla casa. Per quanto riguarda invece le decorazioni interne della casa ragazzi potete fare quello che più vi pare e piace con i blocchi che ritenete migliori. Io onestamente utilizzo molto spesso librerie e chest perché ritengo che ci stiano molto bene come elementi rappresentativi di poi costruzioni che ci sono anche nella vita reale come appunto librerie, armadietti e cose di questo tipo. Tra l'altro ci stanno molto bene con i colori che ho utilizzato per la casa e vi consiglio di utilizzare quindi anche dei colori che allo stesso tempo abbiano un contrasto ma non una sfumatura dall'interno della casa in maniera tale che tutti i blocchi che avete piazzato che servono più che altro per decorazione sfumino molto bene con tutto il resto della casa. Tra l'altro vi consiglio anche di piazzare dei tipi di pavimentazione diversa se non volete proprio modificare il pavimento fate come me e mettete semplicemente dei tappeti di lana e mi raccomando ragazzi ricordatevi che la vostra casa deve anche avere un'utilità. Quindi ricordatevi di piazzare i blocchi necessari per la vostra sopravvivenza quali magari semplicemente delle fornaci, delle crafting table, delle casse, delle incudine, cose di questo tipo ma fate in modo che siano integrate bene con il resto dell'ambiente e che ci stiano molto bene sia da un punto di vista di praticità quindi fate in modo che possiate tranquillamente accederci facilmente e fate in modo che ci stiano molto bene anche esteticamente. Se poi volete decorare ogni stanza a seconda dei blocchi che avete messo come in questo caso la cucina potete tranquillamente utilizzare altri elementi che ritenete opportuni per la costruzione cosa che sto facendo io in questo preciso istante. Tra l'altro ragazzi mi raccomando non create soltanto delle stanze che siano utili dal punto di vista sopravvivenza ma create anche delle stanze che possono essere piacevoli semplicemente a una vista di semplicemente 2 o 3 secondi. Fate in modo che queste stanze siano decorate con i blocchi che vi piacciono di più e magari anche con i quadri che vi piacciono di più. Se invece avete magari una casa un pochino più piccola o una casa piccina ragazzi mi raccomando decorate al meglio la zona vicino alla vostra camera da letto o magari semplicemente al vostro letto in maniera tale che anche tutta la casa sia decorata e che una volta che vi metterete a letto la casa sia effettivamente bella esteticamente. Per quanto riguarda invece l'esterno ragazzi decorate come vi pare e piace potete metterci tranquillamente un orto delle decorazioni che possono sfumare o semplicemente contrastare con il resto della casa e fare in modo che questa sia più accogliente vista dall'esterno. Io semplicemente metto magari delle trapdoor ovvero anche semplicemente delle botole ai lati delle finestre per sembrare che queste siano effettivamente le veneziane. Però potete tranquillamente anche tralasciare questo piccolo particolare e magari dedicarvi un attimino più che altro alla decorazione dei piani inferiori della casa in quanto sono più accessibili. Tra l'altro ragazzi mi raccomando magari costruite un orto che dal punto di vista estetico ci sta sempre molto bene e può anche essere utile dal punto di vista pratico. Onestamente ritengo che questi possano essere i consigli migliori che vi posso dare per la costruzione della vostra casa ideale. E questi qua ragazzi sono i consigli che io ritengo più opportuni da darvi per costruire la vostra casa ideale all'interno di Minecraft. Fatemi sapere con un bel commento se effettivamente questi consigli vi sono stati utili e se volete più episodi di questa serie mi raccomando ragazzi fatemelo sapere con un bel mi piace perché questo primo episodio della serie mi è costato un bel po' di tempo da fare. Fatemi tra l'altro sapere sempre nei commenti cosa vorreste vedere come prossimo episodio e ragazzi io come sempre voglio augurarvi una buona giornata, una buona serata e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!